Giornata importante per confermare ancora la validità del sentiero Italia, ma soprattutto per ribadire ancora una volta dell'importanza di una montagna sempre più abitata, che produce servizi per i cittadini, ma consente ai cittadini di viverci tutti i giorni dell'anno. Il sentiero è un ulteriore tassello in questo senso, nel senso quindi della promozione dei territori dell'area interna del Paese, una straordinaria occasione di sviluppo per l'intera nazione e devo dire che il CAI anche in questa occasione si è dimostrato all'altezza della situazione con un grande sforzo organizzativo che come sappiamo ha la base forte su un volontariato di straordinaria eccellenza.